Noi siamo concentrati sulla partita di domani, tutto il resto in questo momento non conta nulla per noi. Conta la partita di domani e i nostri pensieri vanno alle difficoltà che incontreremo domani. Quindi altre cose proprio non ci sfiorano nemmeno. Per quanto riguarda il discorso del pensare al dopo vale la prima risposta. Il nostro sogno è fare una bella partita domani, questo è il nostro sogno. Chi gioca a pallone ha tradotto il suo sogno in realtà, chi lo gioca poi ad alto livello è una realtà ancora più gratificante e quindi questo è il nostro sogno. Domani noi vogliamo, il desiderio nostro forte è quello di fare una grande partita. La squadra per me può giocare meglio, io so che in questo momento non è facile perché lo sapete come lo sapete voi, lo so anch'io che è una situazione davvero molto critica, ma tutto questo ci deve far essere ancora più forti nel cervello, nelle gambe, il cuore e poi anche le qualità che questi giocatori hanno. Quindi il cervello, il cuore, le gambe, poi ci sono le qualità di ognuno di noi. No, noi dobbiamo dare, la squadra deve dare. Dispiace perché io sono certo che la squadra darà tutto e quindi quando il pubblico vede che la propria squadra dà tutto, la sostiene. Quindi non avere il sostegno della propria gente, perché i palermitani, come ho detto tante altre volte, non sono assolutamente persone violente. Noi dobbiamo fare una grande partita. Dispiace, dispiace perché come ho detto prima, io credo che la gente ci avrebbe sostenuto perché la squadra lo merita. Per me non è tanto la disposizione, è l'atteggiamento, l'attenzione e le qualità dei giocatori. Poi dopo cerchi di metterli, ognuno di loro cerchi di metterlo nelle condizioni migliori per fare bene. Le difficoltà ci sono e sono tante. La Sampdoria, ma l'abbiamo detto anche l'altra volta quando l'abbiamo incontrati, poi dalla volta scorsa si sono anche rinforzati perché a gennaio hanno preso giocatori, hanno aggiunto giocatori molto capaci, bravi. Detto questo il Palermo deve pensare a fare una grande partita e poi il Palermo ha fatto quello che doveva fare.